Con Padre Giuseppe Calderone parliamo di questa settimana dei giovani che convolgerà anche la nostra città di Termini Iverese, ma tutta la manifestazione convolgerà sicuramente la provincia di Palermo con il centro a Palermo, la cattedrale. Padre Giuseppe. Buongiorno a tutti i telespettatori, si svolge dal 13 al 18 novembre, questa settimana dei giovani, in questo anno particolare che il Papa Francesco ci invita a guardare alla realtà dei giovani in preparazione al sinodo e nella nostra diocesi si svolgerà questa settimana che non vuole esaurire assolutamente la riflessione, la partecipazione dei giovani, semmai vuole invogliare e aprire la realtà della Chiesa all'esperienza dei giovani, quindi è un vero e proprio inizio, un happening dei giovani per pensarsi all'interno della Chiesa e in questa settimana si svolgeranno anche qui a Termini alcune esperienze, in realtà la tenda di ascolto che sarà presente qui in Chiesa Madre e poi dei laboratori, dei workshop che saranno 34 in tutta la diocesi e due si svolgeranno anche qui a Termini presso la scuola paritaria delle maestre pievenerine. La tenda di ascolto è una risposta ancora alla sollecitazione del Papa che dice ai giovani nella lettera di in questo gennaio 2017, non abbiate paura di fare sentire la vostra voce e fatela arrivare fino ai pastori, anche dicendo criticamente quello che non vi piace o non vivete bene nella Chiesa, quindi non è una tenda dove ci saranno le confessioni, la riconcidiazione, quello è un altro momento, ma tenda dove ci saranno dei laici che sono stati preparati a queste accoglieranno quello che i giovani vorranno dire, le proposte, le critiche, tutto quello che è in questo discorso sinodale, quindi del cammino insieme e che i giovani vorranno presentare, poi sarà accolto in sintesi nel cammino della Chiesa palermitana. I laboratori invece presenteranno delle tematiche le più varie, ad essi ci si scrive attraverso il sito della Diocesi www.diocesipa.it e si può partecipare o a quelli che sono qui a termini o a quelli che saranno nelle altre località della Diocesi e poi il programma lo potete seguire sia per il servizio che fa teletermini e per quello che attraverso i social la Diocesi di Palermo ci consegna, ripeto, come un cammino iniziale, non è un celebrarsi dell'esperienza dei giovani, ma è un volere iniziare una strada, un cammino insieme. Padre Antonio, un messaggio ai giovani a questo punto, è dobbio a lanciarlo? È molto bello poter partecipare a questa settimana organizzata dalla Diocesi, come già diceva padre Giuseppe. Io sono bellieto di dare il mio incoraggiamento sia qui a termini nella veste di parroco della parrocchia di San Nicola di Bari, ma anche come vicario del sesto vicariato, ho già sentito i parroci perché possano coinvolgere i giovani e soprattutto fare in modo che le nostre comunità parrocchiali si mettano in ascolto dei giovani, facciano spazio ai giovani, accompagnano i giovani nel loro percorso formativo, perché come dice l'arcivescovo nella sua ultima lettera pastorale, possano i giovani essere artisti del loro futuro. Luca Badalì, un giovane, sentiamo anche lui e naturalmente farà parte di questa settimana dedicata ai giovani, come la verrai Luca? Io penso che i giovani siano la ninfa vitale di questa chiesa, poi avere dei sacerdoti che assecondino le richieste e le esigenze da parte di tutti i giovani è fondamentale. Col tempo ci rendiamo conto spesso che forse non è Dio che manca a noi di qualcosa, ma siamo noi a mancare nei confronti di Dio di qualcosa. Le nostre esigenze, le nostre difficoltà non sono da imputare a Dio, ma sono da imputare alla società di cui noi stessi siamo parte. Noi dobbiamo chiedere l'aiuto a Dio e non rimproverare o allontanarci da Dio, perché non è sua la colpa appunto di questa situazione. Sicuramente nella società attuale i giovani vivono grandi difficoltà e spesso ci allontaniamo dalla chiesa come rifugio in qualche altro settore, che in realtà non è quello che rappresenterà il nostro futuro. L'aiuto e la presenza di sacerdoti come padre Antonio e padre Giuseppe ci fanno comprendere come la chiesa è nostra alleata, è nostra amica ed è presente in ogni momento della nostra vita, perché se si cerca si trova. Nella Bibbia stessa c'è scritto bussa e ti verrà aperto.